Siamo con Don Beato al torneo di Baiola. Don, è un'iniziativa importante, in questo caso lo sport diventa uno strumento di solidarietà per le famiglie, in particolare ischitane, che ne hanno particolarmente bisogno. Che nello sport ci sono valori fondamentali, senza dubbio lo si conosceva. Questi ragazzi è da un po' di tempo che si stanno, in un certo senso, si distinguono attraverso questo modo di essere per gli altri, attraverso questo modo di essere, soprattutto per i poveri, e quindi è da un po' di tempo che mi hanno, in un certo senso, inserito, fatto in modo che potessi prendere parte a questa iniziativa, perché poi vengono in chiesa, portano tutto quello che raccolgono perché venga distribuito ai poveri. Sì, sia io che Don Pasquale Mattera, un po' i sacerdoti di Forio, ci mettiamo tranquillamente e volentieri a disposizione di questa iniziativa, che è molto bella, questa iniziativa che è sana. Ecco, quando lo sport, quando il calcio, il calcetto in questo caso, oltre, lo diceva prima Giovanni Sassono, ci fa superare i confini, i confini della famiglia, i confini della comunità, i confini della paesanità, per farci capire che siamo tutti veramente fratelli e nello sport si sente forte questa amicizia che ci unisce, questa amicizia che ci fa essere per gli altri. Ecco, allora, dallo sport, dalla partita, dal match per gli altri, in modo che tutti possano, in un certo senso, anche nel poco, vivere un Natale non tanto per il bene materiale, quanto per il fatto che qualcuno ha pensato a loro e quindi arriverà nelle case dei poveri questo piccolo segno, che è l'augurio di un buon Natale, dell'augurio di un anno pieno di felicità, vissuta lì dove si vivono i valori, quelli fondamentali della vita.